Indice dei contenuti jet privato costi, quali fattori devi considerare, quanto costa comprare un jet privato, quanto costa mantenere un jet privato, quanto costa viaggiare con un jet privato, quanto costa affittare un jet privato, come risparmiare e investire per potertelo permettere, conclusioni domande frequenti nell'immaginario comune acquistare o noleggiare un jet privato a costi proibitivi per la maggioranza delle persone, eppure si tratta di servizi sempre più richiesti. I vantaggi di volare su un velivolo privato sono innegabili, infatti si può godere di confort, riservatezza, massima flessibilità, e non è prevista nessuna fila per i controlli in aeroporto. I costi di un jet privato dipendono da diversi aspetti, che possono far oscillare i prezzi di molto. Quello che dobbiamo sapere è che non si tratta più di opzioni riservate ad una stretta cerchia di persone facoltose, ma di soluzioni che quasi tutti possono valutare. Costi di un jet privato. Tabella iniziale sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Il controllo dei costi dovrebbe essere al centro della tua strategia di investimento. Scopri di più quanto costa un jet privato? Il costo parte da circa 4 milioni di dollari Quanto costa un jet privato usato? Meno della metà rispetto ad uno nuovo Quanto costa noleggiare un jet privato? A partire da 2000 euro l'ora come risparmiare sull'acquisto? Con la proprietà frazionata, l'acquisto di un jet usato o con il noleggio jet privato costi. Quali fattori devi considerare? Esistono molti tipi di jet privato, che variano tra loro per le dimensioni, l'anno di produzione, le ore di volo, lo stato di manutenzione e gli interni, che possono essere più o meno personalizzati. Ognuno di questi fattori ha una certa incidenza sul valore del velivolo. Quando si parla del costo di un jet privato si fa riferimento anche ai costi operativi, che includono la manutenzione periodica, la spesa per l'hangar, l'assicurazione, lo stipendio dell'equipaggio, il carburante, le tasse aeroportuali e la formazione del personale. È necessario quindi distinguere tra costi fissi e costi variabili, che hanno entrambi un certo peso sulla spesa complessiva. Quanto costa comprare un jet privato? Per rispondere alla domanda quanto costa un jet privato, dobbiamo precisare che è possibile scegliere tra la proprietà esclusiva dell'aeromobile e la proprietà frazionata. Nel primo caso il proprietario può disporre come preferisce del jet o personalizzarlo in base ai propri gusti ed esigenze, senza limitazioni di sorta. L'acquisto di un jet privato nuovo può costare da 4 milioni a 40 milioni di dollari a seconda del tipo di velivolo e dal suo stato. Nel caso di un jet usato, si può risparmiare oltre la metà. Nel caso di proprietà frazionata, il jet è condiviso con altre persone, ma si può disporre di esso con un preavviso di sole 6 ore. È una soluzione che può far risparmiare molto rispetto alla proprietà esclusiva e il vantaggio deriva anche dalla possibilità di poter dividere pure i costi di gestione e manutenzione dell'aereo privato. Quanto costa mantenere un jet privato? I costi legati alla proprietà di un jet privato sono tutt'altro che trascurabili. Se per l'acquisto di un Gulfstream G450 si deve sborsare circa 40 milioni di dollari, i costi fissi ammontano a circa 880 mila dollari l'anno. Mentre i costi variabili sono pari a circa 1,6 milioni di dollari l'anno. Se invece prendiamo ad esempio un jet privato più piccolo come il Phenom 100, per l'acquisto sono necessari 4,4 milioni di dollari. Mentre si dovrà sborsare ogni anno 470 mila dollari per affrontare tutte le spese fisse e variabili che comporta. Nel caso di proprietà frazionata, i costi di mantenimento si riducono notevolmente e si riesce ad abbattere sia la spesa mensile per la gestione del velivolo, sia la tariffa oraria che ogni comproprietario deve pagare per l'uso del jet privato. Quanto costa viaggiare con un jet privato? Per viaggiare con un jet privato non bisogna per forza esserne proprietari. Abbiamo già visto la possibilità di ridurre i costi con la proprietà frazionata, ma c'è anche la possibilità di noleggiare il jet privato in base all'uso che si intende farne. Per un volo di circa un'ora si paga da 2.000 a 5.500 euro in caso di noleggio di un aereo privato. In caso di proprietà frazionata di un Embraer Phenom 300, il comproprietario che detiene la quota di 1 fratto 16 del jet privato, pagherà su base oraria circa 6.000 dollari. È più difficile quantificare il costo orario di un velivolo di cui si abbia la proprietà esclusiva, perché dipende dalla frequenza e dalla durata dei voli. Quanto costa affittare un jet privato? Abbiamo visto che il noleggio è una delle opzioni più convenienti per ridurre i costi di un jet privato. Grazie alla formula del noleggio, in qualche caso si riesce anche ad ottenere una tariffa più conveniente rispetto a quella prevista per i voli di linea. Questo è possibile quando a bordo del jet a noleggio ci sono più passeggeri che si dividono la spesa per l'affitto. Quanto costa noleggiare un jet privato? I prezzi vanno in media da 2.000 euro a 4.000 euro per un'ora di volo e dipendono da diversi fattori, il numero di passeggeri e bagagli, la distanza da percorrere, le ore di volo, il tipo di jet e il costo del carburante. Al crescere delle dimensioni del velivolo, salirà anche il prezzo, perché sono maggiori anche i costi di carburante, manutenzione e gli stipendi di pilota e hostess. Tabella riassuntiva dei costi costo di un jet privato a partire da 4 milioni di dollari costo di un jet privato usato a partire da 2 milioni di dollari noleggio di un jet privato a partire da 2.000 euro l'ora come risparmiare e investire per potertelo permettere. Sono diverse le esigenze che possono spingere all'acquisto o al noleggio di un jet privato, ma che si tratti di viaggi di piacere o di spostamenti per lavoro, in ogni caso i costi hanno una certa rilevanza e vanno valutati con la massima attenzione. Come potersi permettere un jet privato, se non si possiede il capitale necessario? La risposta a questa esigenza può arrivare dal risparmio e dagli investimenti sui mercati finanziari. Accantonare su base periodica delle somme di denaro, aiuta a costruire pian piano un capitale che cresce nel tempo. Per continuare ad accrescere il proprio capitale, si consiglia di investirlo sui mercati finanziari, sulla base di una solida strategia di investimento. I consulenti di Monifarm costruiscono ogni portafoglio di investimento in modo personalizzato, perché ogni cliente ha la sua propensione. Al rischio, un diverso orizzonte temporale e degli obiettivi economici da perseguire. Flessibilità e diversificazione sono due importanti parole d'ordine, perché permettono di modificare il portafoglio in itinere per adattarlo ai diversi scenari di mercato o alle nuove esigenze del cliente. Conclusioni. Un jet privato ha un costo importante, ma assicura anche degli innegabili vantaggi rispetto agli stressanti voli di linea. Con un velivolo privato si ottiene puntualità, comfort, privacy e la massima flessibilità di tutti gli spostamenti programmati. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal prezzo, tutt'altro che popolare sia in caso di acquisto sia in caso di noleggio. Per contenere i costi di possono valutare delle soluzioni alternative rispetto all'acquisto esclusivo del jet, come la proprietà frazionata oppure il noleggio. In questi casi si riesce a contenere la spesa su base oraria e soprattutto i costi per il mantenimento del velivolo. Quando l'acquisto è un'esigenza imprescindibile, ma non si dispone del capitale sufficiente, è possibile utilizzare come levagli investimenti sui mercati finanziari e una buona disciplina al risparmio. Per seguire l'obiettivo di acquistare un jet privato diventa più facile quando dei consulenti specializzati mettono a disposizione la propria competenza ed esperienza. Domande frequenti. Quanto costa un jet privato? Esistono tanti tipi di jet privati, quindi i costi sono molto variabili. I costi per un velivolo nuovo partono da circa 4 milioni di dollari, ma possono arrivare a 40 milioni e oltre. Quanto costa affittare un jet privato? Il noleggio di un jet privato ha un costo che parte da un minimo di 2000 euro l'ora e dipende da diversi fattori, come il numero di passeggeri e bagagli, le ore di volo, la tratta e il costo del carburante. Sono spese che si possono dividere tra i vari passeggeri, così da contenere la spesa. Da cosa dipende il costo di un jet privato? I prezzi dei jet privati dipendono dalla dimensione, dall'età dell'aereo, dalle ore di volo, dallo stato di manutenzione e dagli interni. Un jet privato usato costa in genere meno della metà rispetto ad uno nuovo. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito.